8 coppie, 16 giovani vite, loro orecchie si accanisce sui corpi, una scia di sangue che terrorizza una città e mette l'angoscia ad un'intera nazione. Non si esce più di casa in quegli anni nelle colline fiorentine, dal 68 all'85 il maniaco delle coppiette colpisce, squarta, per tutti diventa il mostro di Firenze, il serial killer più brutale che l'Italia abbia mai conosciuto. Nei 40 anni di indagini vengono uccise anche sette persone collegate all'inchiesta, altre tre si tolgono la vita, è una maledizione, una saga tinte forti che diventa un genere letterario e appassiona gli amanti del noir, diventa best seller da esportazione. Io ho voluto bene a tutti, non ho fatto questo male io, un contadino che va a lavorare alla terra, non ha il tempo nemmeno i ragazzi e le scarpe, cosa devo fare? Si dichiara innocente Pietro Pacciani, il contadino di Mercatale condannato, poi assolto, morto prima che si celebrasse un nuovo processo. Che lavoro palle? Io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No no scusi un attimo, vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Con Pacciani andavamo solo a far merenda, ripete per anni Mario Vanni, l'ex postino di San Casciano, poi c'è il pentito Giancarlo Locchi, morto sei anni fa e lui a far ritenere ai giudici che ad agire fu un gruppo di semi analfabeti. Più avanti si fa strada un'altra ipotesi, quella di un secondo livello, professionisti che in cambio di soldi avrebbero usato i compagni di merende per procurarsi macabri reperti per festini e riti satanici. Siamo anestetizzati, poi mano a mano che questo dolore scenderà, allora comincerò a piangere. E cambiata vent'anni fa, nel 1988, la vita di quest'uomo. Faceva il farmacista a San Casciano fu accusato di essere il mandante del mostro di Firenze, almeno per gli ultimi quattro duplici omicidi. Si chiama Alessandro Calamandrei. Ieri la sua vita è cambiata ancora, è stato assolto, non ci sono prove e di nuovo un uomo libero, libero anche, di raccontare la sua verità.